Ragazzi stiamo andando in un posto che è molto famoso qua in Thailandia dove c'è il mercato galleggiante e il mercato subinari del treno Ora stiamo facendo una sosta in un autogrill ma è bellissimo, insomma è un villaggio Un mercato veramente Un mercato e io voglio fare colazione assolutamente perché ho una fame tremenda E niente vi volevo provvedere la pettinatura che ho fatto perché l'ho vista ieri una bambina qua thailandese e gliel'ho occupata Mi piace? Siamo al Meklong Railway Market, il mercato che si svolge sulle rotaie del treno Il mercato ferroviario di Meklong distribuito su una lunghezza di 100 metri vende frutti di mare, verdura, frutta, cibo fresco e secco, carni e altri beni vari Sono un po' fuori, ma da una parte mi dispiace perché abbiamo poco tempo per visitarlo Vi porto all'inizio, questo è l'inizio, c'è Mirko Stanno smontando già le bancarelle perché sta per arrivare il treno, guardate che smontano Ma tu dove? E' aperto dalle 6 del mattino alle 18 Il mercato è chiamato life risking perché le sue bancarelle sono collegate alla ferrovia I venditori sul mercato mettono fuori ombrelloni o tele per proteggersi dal sole Quando arriva il segnale del treno si verifica il caos I venditori si affrettano, chiudono i loro ombrelloni e sgomberano le merci Una volta passato il treno, le merci vengono nuovamente messe nel loro solito posto accanto alla ferrovia La pratica è usuale per i venditori e la gente del posto, ma non per i turisti che si affascinano ogni volta L'evento Parasol Closing avviene 8 volte al giorno E' appena passato un treno, dopo ritorna indietro Devo ammettere che è un po' caotico, un po' troppo per i miei gusti Però vabbè è normale, è un posto turistico Adesso il treno arriva alla stazione e ripassa e torna indietro Quindi stavolta mi voglio sistemare più comoda per fare le riprese al meglio Noi siamo venuti qui con una visita guidata Compreseva il treno sui binari e il floating market che dopo vedrete Sono le 11 di mattina e sembra già che io abbia vissuto tre giorni di vita Guardate i miei capelli, la mia maglia sudata Sono le 11.25, alle 11.30 ripassa il treno di prima Noi ci siamo già posizionati dietro questa linea rossa Così siamo al sicuro per quando arriva il treno Adesso io di qua non mi sposto più, guai se mi dicono qualcosa, guai Era la prima volta in Thailandia quindi ho fatto come potevo Però se tornassi indietro non farei più il viaggio qui alla stazione di questo treno organizzato Ma verrei da sola proprio con un treno in questo paesino vicino a Bangkok Non verrei più con il viaggio organizzato e soprattutto non a quest'ora Verrei la mattina presto Lui è come te che fino all'ultimo vuole stare all'ombra secondo me Sto raccogliendo il piso Cosa raccoglie questa signora? Vorrei chiederlo a questo qua Eccolo che arriva Incredibile ragazzi Grazie a tutti Siamo in un mercato galleggiante Siamo su delle barche E andiamo a comprare su altrettante barche Si chiama Floating Market Ed è molto suggestivo, giuro Pazzesco Cioè penso sia una delle cose più belle che ho visto nella mia vita C'è un sovraffollamento di barche Tutte appiccicate Non so in base a cosa si decide a chi passa per prima La cosa triste Sono talmente tante barche Che è impossibile riuscire a comprare come uno vorrebbe Cioè se io volessi toccare quel serpente Non posso Perché sono in mezzo al fiume E c'è un'altra barca Prima di me non posso toccarlo Il Floating Market Sorge lungo un piccolo canale Nel bel mezzo della campagna A un'ora e mezza da Bangkok È utilizzato in prevalenza dai locali Che con le loro barche a remi Piene di prodotti alimentari Arrivano direttamente dal mercato Dalle loro fattorie Si tratta di un mercato mattutino Aperto tutti i giorni Dalle 7 a mezzogiorno Il mercato è raggiungibile In auto o in taxi In alternativa ci sono degli autobus Che partono ogni circa 40 minuti Abbiamo fatto il giro in barca Vi parlo adesso Perché siamo più tranquilli Non ho paura che mi cada L'attrezzatura nel fiume Vi giuro che durante il giro in barca Ho avuto mille volte la paura Che mi cadesse la roba nel fiume Ho detto Sono finita Finita la vacanza Dunque ora siamo in un parcheggio Abbiamo 50 minuti di tempo all'incirca Facciamo partire il drone Perché vogliamo fare le riprese Con il drone sul fiume E poi spero di avere il tempo Di andare a mangiare qualcosa Perché inizio già a sentire un languorino Dopodiché torniamo a Bangkok Purtroppo quando fai le cose Con il viaggio organizzato È sempre così Non hai il tempo materiale Per fare tutto Perché devi stare dietro I tempi prestabiliti Quindi è tutta una corsa Per fare tutto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.